Avola perde il Bancomat e il conto bancario scende, è denunciato quarantenne. La vittima notava strani movimenti contabili della sua carta Bancomat e si accorgeva di non possederla più. Allarmato se l'utente si rivolgeva agli uomini del commissariato di Avola che, esperite e immediate indagini di polizia giudiziaria, accertavano che un uomo di 40 anni di Avola era in possesso del Bancomat e aveva acquistato numerosi prodotti di tabaccheria e di cosmesi. Aveva effettuato ricariche telefoniche e comprato altri beni. Dopo le incombenze di legge l'uomo è stato denunciato per l'indebito utilizzo della carta di pagamento.